Concludiamo con la finale del quattro di Coppia, due atleti della Croazia, il nostro Simone Reineri e il nostro Simone Venier. I start with you, what about this race? We had a really good race here. We came first after 1.000 meters and 1.000 was very very hard because of wind. And we're happy because we win this crew, because we know that they are our good Contra, I should say. What about Italy? Do you like Italy? Yeah, we are good competitors on each regatta. We are in the same boat length, so we are a good and healthy concurence. And we see they have a new man, new man in the crew and they are also fast, so I hope it will be a very exciting season this year. Una battuta anche Simone su questa gara? No, ottima. A dire il vero, non ci aspettavamo una gara così dura. Pensavamo come l'anno scorso che la Croazia fosse lentamente più superiore, invece abbiamo dimostrato ancora una volta un buon valore nostro. Loro si sono confermati di essere l'equipaggio attualmente ancora più forte del mondo. Noi siamo a un buon punto considerando che l'anno scorso quest'ora avevamo preso attorno ai 6 secondi. Mi sa che adesso avremmo preso una barca in mezzo, attorno ai 3, quindi buono, da ben sperare questo risultato. Una battuta veloce anche con Simone, ci vediamo a Monaco. Speriamo, speriamo di migliorarci. Comunque anche la gara di oggi per noi è stato un buon test, perché comunque loro sono l'equipaggio secondo me più forte al mondo insieme alla Polonia. L'hanno dimostrato l'anno scorso in Nuova Zelanda, dopo qualche mese la storia si è ripetuta. Hanno rivinto loro, complimenti. Ma venderemo chiaro la pelle. Ci rivediamo a Monaco, Lucerna e al Mondiale. Ok, grazie ai due Simone. Thank you, friend from Croatia, see you in Munich. Thank you, see you in Munich.